ah ho capito ho capito no vabbè però comunque è qualcosa ma la Demi dove? no vabbè 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 Grazie a tutti. 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 Cazzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. ... Non ti piace la firma? Qual? Sì, però ce l'ho ancora a primo livello. Da fastidio vedere che gli altri ce l'hanno più alto di me. Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace. 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 Eh? No. Dove sta il segnale fra? No, vicino al parco, giù. Allora, al parco... Ci sono ancora, senta, ci sono. Perfetto. Perfetto. Mi serve di averlo visto. Non lo son sicuro, però... No, perché mi ricordo che stava uno a parte. Poi ce l'ho notato a bestenghi. Tu bestenghi? Sì. No, tutto. Ah. Ok, cioè, forse. Se è con l'ora di ballare... No, l'ho notata. Non lo trovo. Non lo trovo. Non lo trovo. Non mi ricordo più dove sta. Ma mi sparano fra... Cioè, l'ho notificato. Guarda. Ma è fra tre persone. Tre persone. Tre persone. Questa è una squadra qua? No, è il duo. Però ci sono sette persone, sono due team qua che mi hanno sparato. Se vedessi il mio lutto, la quarta 13, il merda. Eh? Il mio lutto è una merda. Eh, con la torretta. Fra stanno tre team, non ti avvicinare qua, figa. Non ti avvicinare proprio. Non uscire. Scemo di brutto, stanno a sei di loro. Ancora non sei conto. Che, ma? Che? 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 Eh. Es. Eh. Dopo facciamo in server più in due? Eh? Dopo facciamo in server più in due? Eh... Ma non ce la fa più tardi. Ma sagte più tardi. facciamo i server in duo dopo iniziano alle 4 sono quelli la dove rimani in 40 nell'ultimo save nooo porca troia oh cazzo eh fra nooo era quello la che mi ha ucciso pure a me si e beh 4g l'ultima fase è quello la che cambia colore beh l'ultima fase di quale di quale la femmina l'ultima fase è quello la che cambia colore l'ultima la vedo allora 1,2,3,4,5,6,7 è quella nera si che cambia colore no mamma mia quanto è bella eh quello della genna non ce l'ho bloccato tutto minchia giociamo un po' di parco per allenarci un po' che almeno dopo facciamo i server no non è parco si è parco si lo hai fatto ancora alla fine no perchè non l'ho trovato mi ricordo strano mi diceva una desiderio mo vediamo e dopo ci andiamo magari come c'è ma fra dopo avvi la creativa tu e io entro con la creativa è meglio secondo me sono messo a allenarci eh si perchè hai materiali infiniti ma le armi le puoi prendere? però non ho capito dove si si dai nell'inventario io ti devo dare i permessi te senti nella mia io ti do i permessi e te puoi fare tutto prendere le armi costruire vogliamo entrare? vogliamo entrare? vai usciamo facciamo un po' di creativa però ti dico però ti dico credo di si fra cioè non è non so sicuro si credo però allora creativa se non vuoi leader creativa fra non mi fa fare la creativa ah ecco perchè ritengo il capo no non volevo questa creativa creativa vado nella mia? non si credo ne creo una nuova? no ne creo una nuova? eh sì ok ok ti dico io non ho ancora mai capito non ho mai preso le armi l'ho visto da un video però non mi ricordo com'era devi andare e andiamo ma c'è delle partite? si son dentro cazzo andiamo cioè tengo pronto e andiamo che bravo ma perchè bisogna avere il pass fra serio? eh mhm mi sa che bisogna avere il pass per entrare mh perchè mi dice che siete ma ma sono entrato da un'altra persona aspetta non ci sto capendo molto aspetta no entro da me mh mh ma è il lobby mhm aspetta che ce l'ho ancora privata vai entro ma che mi 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 Dovremmo essere entrati Sì Perché prima non è partito? Ma forse perché sono entrato da un'altra persona Eh sì bravo Perché mi diceva che stavo in 5 Adesso leggo Allora benvenuto nella modalità creativa Vai nella 2? Sì ho messo la 2 Ok pur io Un attimo ora rileggo Marcolina non ti conosco ancora Ma io non ti vedo Ok io sono appena entrato Fra c'è la mia isola Devo entrare da te no? Sì entra nella 2 Eh fra eh Ci stanno già le costruzioni con le cose là Ma lo puoi togliere? Non lo so Ma devo eliminarle tutte E ora non Sono baggatissimo Sì lo so anche io Vai tra Vai tra Anche io ero baggato all'inizio Ma come faccio questo rileggo Ti devo dare permessi A me non ti vedo nel lobby Eh? Sto dentro qui Sì non ti vedo dentro alla Ah perché no non sono andato a scuola Ah ok Ok E come faccio a darti il permesso? Non so Prova a costruire C'è la pranzia materiale Eh no 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 Ti dice Zer Costruisci lo stesso Non è un po' niente Non è un po' niente Ma come te lo hai fatto? Ma me Alexa alle 4 iniziano Come si fa? Non so come darti i permessi Te lo giro non so come darti i permessi Come faccio a darti i permessi? Come dare Eh bravo si cerca un po' da qualcuno Perché mi Perché non mi fa correre? Ah ma sui telefono devi fare qualcosa Cosa Cosa? Mh? Cosa? Sul telefono devi andare a fare qualcosa Ma Alex sono in tutte le maniere Cioè il simbolo duo Squad Tutti Sì È la stessa Ah ok no In realtà siamo Più in là Che più in questo Poi Di gantetta Stato Bene No Tu non ce l'hai Io non ho nulla Ok Quindi io qui sono l'altri Perché è la mia Allora E' vero che a cui si possa In qualche modo Dare In questa staglia Allora noi possiamo Evidenziare Il risultato O sottovaldo Poi Ok Guarda con che velocità Fa' di un'altra Stamore Possiamo quindi In questa staglia Ma non è che In questa staglia Dove L'altro Punta La mia stona È il mio principale Per condizionare Delle modificare Delle modificare Delle modificare Io posso Prendere Un sacco di Tre fatti I campi Ma Sperchiamolo E Ben return No Però Allora Tu devi andare su Cioè non ho capito Non ho capito Anco io Però tu devi Prendere Dove andare Cioè non ho capito Tu devi andare Il telefono Dove andare A vedere Chi sta Creativa Gioca Sul telefono Perché sul telefono Per fare Sul telefono Che c'è Di supporto Se no La creativa Ma io non vado Dal telefono Su fortemente Io non vado No Cosa c'è Nel inventario Ah Eh sì Poi Eh lì Mi riesce Creativa Gioca Mi riescono Le armi A me Esce Copia Raccoglie Raccogli E cangi Guarda La mia live La frasetta Guarda la live Guarda la live Ti pianta No Manca bene Mandami video No Te l'ho mandato Soprano Sono Anche Di oggi Sempre con la mia Secretaria Tirlessa Altoressa Altoressa Tressa Ragazzi Sono già usciti Due video come abbiamo fatto la reaction del pass battaglia la reaction è l'analisi dei segreti della mappa e vogliamo fare una prova velocissima quindi questo sarà un video molto easy della modalità creativa potete accedere dal menu principale oppure qui andate su creativa, accettate e cambiate il punto di vista, guarda lo vedi lo sfondo è cambiato? allora prontizzati avvia un server quindi funziona che possiamo creare un server proprio si e poi mi sa che fa mancare sul server non in locale perché fa una grossa differenza quindi potete creare un server con gli amici avete presente il last fortunas dell'amici immaginate cosa potremmo fare però intanto posso rompere qua perché a me non posso rompere le mappe a me non posso fare niente le rompere se tu apri la mappa vedi la mappa ma aspetta l'isola Tearless qui dice usalo l'Ernest a che minuti ti fa vedere il coso dal telefono fra a che minuti ti fa vedere il coso dal telefono non lo so che guardi noi siamo in esempio allo stesso stile artiste tonico di quello del tempio tomato troviamo in una zona che ricorda un sacco buone delle strade esatto tutte quante cose che vengono dal mondo dei visitatori esatto questo praticamente è un altro dono del nostro cubo ci viene da piangere quasi cioè il cubo ci ha donato il sam's quindi da isola gli dice l'albero enorme che trovavamo un tempo qua tra l'altro c'è una fenditura a oro quindi le fenditure alla fine dei conti ah posso selezionare isola 1,2,3,4 ah cioè quindi ho a disposizione più isole quindi ciascuna di contribuire però come sei altrove ok no adesso arrivo sono confuso ok è la stessa ah ok no in realtà siamo più in là dell'isola di Spog ah ok vedi completamente buoni esatto ok va bene allora lì mi penso ci sia la fenditura di uscita ho distrutto questa cosa gigantesca c'è allora vola prendi due volte guarda è proprio come la creativa di Minecraft come vola per due volte sto volando guarda è prendi due volte spazio si ma io voglio vedere forse perché io sono l'atmin qua può essere esatto no mi piace spettacolo bisogna vedere se si può settare i risultati più possibili costruire io non posso fare niente bisognerà vedere se ci sono a disposizione delle opzioni per consentire agli amici di costruire allora tra l'altro abbiamo una barra di memoria usata sotto la vita che probabilmente sarà un limite diciamo di disponibilità del server se no la gente mi accuserebbe siamo a 9230 con il caricamento dell'isola il resto noi possiamo costruire con questo telecomando tu non ce l'hai a disposizione ma io non ho con l'uomo ok quindi io qui sono oh c'è due materiali eh spero che appunto si possa ho folle di materiali in questo tipo hai folle di materiali allora noi possiamo però non posso così eh oh hanno fatto di avere eh e incollare ma non sono fatti coppia eh messo più no 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 poi io posso volare ragazzi c'è il minigiochi fatti in parco giochi sono instamorti possiamo qui di specchiare tutto sì però dai finora quanto cazzo dura eh sì però se non si nota molto da eh no ma aspetta voglio vedere un attimo se qua oh posso prendere le armi finalmente allora questo 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 e e dove al cacchino vabbè questo oddio fra perché non mi fa perché non mi dice che le sei ma non sono infiniti come faccio a mettere gli infiniti come faccio a mettere gli infiniti non so madonna fra non so come ora leggo ora leggo ma si fra poco alle 4 inizio in server ah copiare l'albero cosa tu puoi primo albero è predappo anche in questo modo aspetta batomica batomica eh c'è la dimostrazione addirittura si guarda una mega struttura si ci sarà un modo che mi sfugge al momento si di cancellare le aree più grandi di selezionarle così come ci sarà la possibilità modalità perché posso tipo lanciare una costruire il tuo palazzo la cosa che mi chiede adesso se posso entrare qui qua fra mi dice che minuto è l'ho guardato tutto ma non me lo dice grazie per aver seguito questi 3 video oggi tra canale solo di te torniamo al 103 e fra vedi il video che hai guardato prima e siamo guarda il video che hai guardato prima ma non lo so cosa non lo dice ah e come fai ecco perché me li fatti vedere ma che ne so vedo la mamma della propria dicevo come funziona la cosa ah e ma io voglio sapere ma hai un po' tenere cambia squadra cambia squadra cambia squadra cambia squadra cambia squadra e vediamo com'è ma la stessa cosa quando lanciò i giorni sono strane e fra i am cioè non so come cazzo d'altri e dispositivi non so come d'altri lì allora sti fermo lì sti fermo lì sti fermo lì sti fermo lì ah so eh sto al centro ah eh vieni qua vieni qua ah 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 che cazzo è questa cosa non me lo fa fare oh fra come faccio e fra usciamo cioè non so come cazzo fare non so come fare non so come fare no no come fai fatti un attimo il telefono eh per farlo però vedo c'è su l'inventario l'inventario eh eh credito eh credito ti aprono queste cose qua ti aprono queste cose qua l'arri guardate 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 ma guardate guardate Mimbo tonato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non mi rispondo. Boh. Prova a creare una tua isola. No, devo farmi il passo. Il passo. Il passo. Ah. Ma non è che è pure per questo che non ti fa giocare? Boh, perché a farmi entrare mi fa entrare. Boh. 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 по Coco. No. Mi fa mutare. Ti fa mutare. E basta? Mmmhm. Basta. Perfetto eh? Mh. Perchè? E non mi prende bene il mouse. and so the tickets of a chum and so the tickets the tickets a fare... no, stai fermo gioco di merda oh, pieno di bug c'ero quasi però... un attimo esco... devo fare un attimo una cosa? allora devo fare così qua così... dai non puoi arrivare al limite devo cercare di imparare a fare platform scalamur aaa... c'era buona No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Non ancora Alex. Oh cazzo sono andato veramente a Pindacoli dovevo andare in giochi sfida. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo so di preciso Alex. Quando iniziano ve lo diciamo usciamo da sta partita e andiamo a farli. Ormai che non li facciamo quando iniziano ve lo diciamo. Grazie a tutti. no, mi sono dimenticato no vabbè sti cazzi no, questo è davanti senza colpino eh? mi sono buggato cioè vanno solo a te no, serio? a me vanno attendi ma se... ma pure a me prima mi dicevi attendi no ma che prima non eri lost ah, chi era lost? il teatro? ero io vabbè cerca quel teatro ma quando ero già riuscita a farmi durare per me va bene adesso arrivo madonna mia che dolore nella schiena calsina eh? 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 che cosa la mamma è vero che tolgliosi nei pochi noi cavolo no, 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 no! vieni qua Oh mio Dio si è baggato con l'amera Oh 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 What No io sono No Perché ti devi Stavo lasciando un pattinista Perché ti devi Stavo a pattinaggio No perché ti devi Devi stare fermo proprio Perché si blocca alla fine Ho fatto a posto Oh Non ti volevo sparare di preciso Stai fermo ora Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Cioè adesso ti sei messo l'assurdo? No Non farlo Quante munizia hai? Quante munizia hai? 800, 245 Vai 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 T'ho preso Cosa ne hai preso? Che pompa No dai no, il pompa no non vale Perché? Eh? Purtroppo Quanta vita avevi? 48 Io per 13 Vado a prendere troppo no? No 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 Sì No fraù Tu si rifò un pa' nuovo pure Eh ma ho capito però dai Eh eh Una cosa per una cosa No dai Eh fra poco Mazz 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 Scusa Non so di preciso fra quanto No dai fra Fra Sì Dai Eh già sto giocando a pompa c'è pompa c'è Potevo seguire pompa morte Eh ma io uso solo quello però eh Mh? Io uso solo quello cioè non le so usare le altre anime Non posso sentire le altre anime Non le so usare Sì Beh eh Stora sento il stor P90 Sento il P90 Quando Prima l'ho usato il P90 Mh? Sì A più oltre che? Nei fight di prima ho usato il P90 Mh? Sempre lo tenevo Eh lo tenevo ma non l'ho mai usato Poi è pure lento il sto cazzo di pompa Eh però toglie troppo Sti cazzo Dai vieni qua Ma poi ancora le troppe le lenti Fammi usare sto cazzo di pompa Emo mi devi trovare un pompa blu Eh? Mi devi trovare un pompa blu Do nonno? Sì No Multipli Multipli Vabbò Eh Prendiamo tutto qui in nocone se lo troviamo Dai adesso Piano piano Allora E niente Ah ti fa bene la pistola finanziata? No Allora qui posso c'è Malaga poi va bene? No Ok Allora qui ci fa bene la pistola finanziata? Allora qui ci fa bene la pistola finanziata? Eh Ma è andato Ma è andato Sì 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 Allora qui ci fa bene la pistola finanziata? Sì 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 è un po' di 30 euro aspetta, aspetta, aspetta per me rimbora guarda il barra non si eslutarsi no, facciamo un attimo, vediamo 3, 2, 1, via 4, 1, via 4, 2, 2, 1, via 4, 2, 1, via no, fraga, un pezzo di merda io ho tutto il cazzo quanto è troppo, quanto è troppo quanto è troppo, quanto è troppo no, che schifo la k ma ti ho preso una sola volta? si e tutt'otto e sessant'otto e tutt'otto e sessant'otto mi hai fatto c'è proprio 45 di eh, 65 no, discuto tutt'otto è un pochissimo madonna, meno male che faceva 105 a colpa questo pompa ah boh, a volte se ti prende di culo ti restrugge se eh, ti devi andare di culo eh, tipo c'è piccolo che è ciao Luigi eh, Massimiliano non so se era le quattro precise eh, questo orario qua inizia no poi tranquilli che vi avvisano eh li voglio fare anche io i server capito eh, ciao Sir ma immagina di che colore lo tengo cosa? eh, leggendario eh, epico fammi cercare un multiplo va? almeno posi quella merda ragazzi non trovo un multiplo bene lui via, non trovo un multiplo aspetta sto vedendo un altro qua e te lo trovo qua mi chiamo Massimiliano e mi l'hai chiesto 10 secondi fa e ne... mh? c'è un incerto che mi fa i server ogni 3x2 quando puoi servare? quando puoi servare? quando puoi servare? quando puoi servare? si dice... ah no, 5 minuti fa me l'hai chiesto dai eh dai però porca troi dammi un cazzo... ragazze armadona ma la serata tutta pinnacolo? si ah che vuoi eh, solo tre colpi bianchi si vuoi ah te la capi fin dovessi partire quando ho detto... tutta la storia di giocavo tutti i ragazzi d'ho fatto in positivo eh oh qui c'è verde anche cazzo ma è già di verde eh? si ma pure verde mi andrebbe bene e' un altro bianco a me è la fortuna perché cazzo quando noi... noi lo vogliamo ma scusa se vai a... ma i giochi sfida non mi le carica non mi le carica ma te lo dovrebbe prender eh allora andiamo... vai la me lo prendi te no 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 non 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 che lo trovi dentro con la casera in giù no, va a far col basso oh dai che per... no no eh vedi ci metti 30 anni per caricarsi ok thanks butto con la cappa ah? butto la cappa io? si no no proprio no proprio ho preso il pompe quello così multiplo ho lasciato quella merda ah lo coole non sei sul cazzo lo sto cosa? e che ne sace a me deve pure tu la cappa no? eh si però a me deve pure tu la cappa eh saperlo usò dai vieni e posa la cappa no fra 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 posa la cappa eh ma la cosa ma la cosa fa ancora per tutte e fa e se lo usava figlia ma faffanculo figa quella lei ha un cancro della madonna figa toglie 82 a colpo a colpo toglie 48 eh 48 eh 18 82 eh ma non mi che devo andare a 18 ogni cosa vai fra dai posalo l'ho posato anch'io il pompa pure prenditelo che ti devo dire no perchè è troppo lento pure per me eh e questo è 102 un po' fa 105 un po' fa 105 un po' fa 105 togli dai fra non parto abbandono oh fra rimango così nenne che dai 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 prenditi il pino vanta dai dai cazzo mi frega del pino vanta fra io non ero con la cappa 3 2 u oh che buono 3 2 1 via oh ma che cazzo ho fatto eh mi sto bloccandolo solo allora sto in altezza sto mettendo alla piramide però mi sto bloccando beh toglilo no toglilo fra eh toglilo ma perché fra prenditelo pure te perchè è cancro è cancro no no che non lo prendo dai la merda di arma devi solo rompere il cazzo alla gente che devi rompere il cazzo alla gente con l'arma che l'viazze qui ciao cazzo cazzo che l'hai tolto? no no si 3 2 1 via rotto il cazzo queste piramide queste chiudete in merda basta basta chiudermi l'ho chiuso vabbè guarda come mi mette la piramide oh non me l'ha messa ma io perché c'è il rischio di diventare ma lo uso sono scherzo e poi non c'è l'uncazza no 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 ho perso l'altezza ok sei caduto ok sei caduto ok sei caduto e quanta vita hai? Canta vita Ma sei immortale Ma sei tu però Dai T'ho tirato T'ho tirato T'ho tirato 3 compate Non mori Che l'unica volta che trovo la capa Perché cancro Che cancro Ora non mi ricordo che l'ho lasciato Dai no Dai 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 fra però se la prendi porca troia Che palle Dai perché l'hai preso Abbandono te lo giuro Abbandono Ma poi da quando è che c'è leggendaria? Da quando è che è leggendaria? Da quando è che è leggendaria la cappa? Non so Sequestrata Oh Oh posalo Posalo Tu me lo riprendi Quando voglio lo riprendo però Sontano Pure le trappole Oh Pasta le trappole Preta merda Era una che l'ha tirata lì a terra Ma la cadena è ancora lui Se la volevo Dicchiava un po' Molto di volte Allora 3 2 3 1 Via Ma se ti dicessi che ho posato lo scar Che hai? Che hai? Che hai? Direi che ho lasciato lo scar Non ce l'ho levato Non ce l'ho levato Si scherzo Ah Ah L'hai fatta apposta Non so capito Ah Ah Ok Psst Uh Vabbè Se ti senti forte così è figa Ah 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 no, svegliato 3, 2, 1, via che schifo di gioco mamma mia che schifo di gioco eh guarda questo ma porco ma vaffan che schifo di gioco schifo di gioco grazie